Vieni a venire! Brava! Non ho un'oportunità, ma è un ruolo della piazza. Tra i nostri condizioni, eh? Siamo veramente qua di Santiago Bernabeu. Questo è un riferimento anche alla cura del Matterport, che era un complimento che faceva anche alla situazione comunale. Chiaramente se il San Ronaldo ce la metterebbe un attimo, eh? Però... L'Italia è facile, che è pienamente uno sportista di moda. Speriamo che mica Anglica prende domani a finire la macchina in soffertina, anche a Monda. Almeno per i colori di Cazanotto, speriamo una bella missione di Finchia. E' una missione sia la finale che Martina Pugliesi, come avevo detto, non conta partire forte, bisogna arrivare forte, eh? E' più la differenza dell'allievo di Monica Pugliesi, che sta per essere ripresa. Vieni! 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 Allora Vieni. Vieni! Awesome! rea